Informarsi per conoscere, conoscere per combattere. Il nemico in questione è il batterio che sta uccidendo gli ulivi e mettendo in ginocchio il salento, la xylella fastidiosa. In tutta la provincia di Lecce si organizzano incontri informativi ed anche a Ruffano l'amministrazione comunale ha voluto invitare gli esperti del settore perché spiegassero ai cittadini cosa stia realmente accadendo alle campagne e cosa si possa fare per arginare il fenomeno della Moria dei Giganti Verdi. È chiaro che le lotte batteri non si possono fare direttamente ma vanno fatte attraverso dei protocolli che individuano la presenza dei vettori e quindi combattere i vettori. Noi ci stiamo muovendo in questa direzione, abbiamo preparato un piano di lotta integrata che comprende diverse misure sia meccaniche che fitosanitarie recuperando tante di quelle operazioni e pratiche agricole che forse da un po' di tempo non si facevano più negli oliveti della nostra provincia. In particolare l'uso di determinati prodotti a basso impatto ambientale che comunque sono anche attivi sul vettore, il filenus spumarius e che quindi contribuiranno a contenere la popolazione di questo vettore. A difesa di una cultura, quello dell'olivo, che rappresenta per il nostro Salento la ricchezza, è chiaro che c'è un grosso danno economico oltre che un grosso danno paesaggistico perché il Salento si caratterizza...